carissimi amici di santina l'ora avete visto fa fatica a camminare e noi dobbiamo aiutarla perché non si può crescere così qui in iraq sono davvero contento che lei questa sera sia qui con me insieme con la sua mamma e voglio chiedere non solo di aiutarla ma di pregare per lei e per la sua mamma